Io sono Fabio Gasparrini, ho 35 anni e praticamente sia per passione, da quando ho 14 anni, faccio questo mestiere, ho iniziato in un'azienda dove ho lavorato 18 anni, ora sono due anni che facciamo questo percorso storico e tradizionale italiano, soprattutto ci si dedica alla riproduzione di coltelli storici e artigianato, artistico sui coltelli, dove andiamo a realizzare cose particolari, sia della cucina, settori hobbisti o per quanto riguarda coltelli sportivi. Da piccolo ho sempre avuto passione proprio per i lavori manuali, una persona si ingegnava a trasformare, a fare le cose. Poi il primo approccio lavorativo è stato verso quest'azienda scarperiese e poi dopo con gli anni, varie collaborazioni con musei, conoscenze, insomma le passioni poi quando vengono intrecciate con personaggi russi si riesce poi a approfondire la passione e anche la manualità e da qui è nato un lavoro improprio dove riesco a sfogare tutta quella che è la mia ormai anche conoscenza e passione soprattutto perché il nostro mestiere è fatto. Partiamo proprio dalla materia prima, corno bovino, corno di bufalo, olivo, bosso, legne, materiali pregiati, avori, il coltello viene proprio sbozzato partendo dalla punta del corno lavorandolo, diciamo come veniva fatto in tradizione per la scarperia, è uguale sulla forgiatura delle lame, diciamo il coltello viene fatto tutto dall'inizio fino alla fine senza materie di importazione, tutte materie prime nostre. Diciamo che questo è un barocco, questo è un coltello, un forgiantiaco, un coltello sardo, un maremano, un gobbo, questa è la zuava nostra di scarperia, coltello tipico che ormai quasi un secolo viene prodotto qui, pattada, bisacuino, coltello siciliano, ogni regione d'Italia ha un suo coltello di appartenenza storia e tradizionale che veniva costruito solitamente il cavallo sarà un metà d'ottocento. Noi prendiamo i modelli che vengono poi appoggiati sul corno fino a trovare la dimensione giusta per creare poi il manio e poi il corno viene squadrato, diciamo sbozzato alla sega a creare il primo blocchetto e poi dopo andare a lavorare alle scartatrici e alle mole. oro e oro e oro. E qui praticamente abbiamo la prima parte della costruzione del coltello. Una volta sagomato il corno, si appoggia sopra il modello del coltello e si segna. Praticamente qui abbiamo un manico già sagomato e tagliato, una volta disegnato la sagoma sopra, viene ricavata questa scavatura nel mezzo dove poi viene inserito la molla e la lama del coltello. Abbiamo il passaggio della creazione della lama dove abbiamo il modello che viene appoggiato sopra, la lama che poi funzionerà da modello e la barretta d'acciaio dove andremo a creare poi la lama nostra. Si appoggia il modello sulla barretta e si segna. Il percorso poi è il solito della creazione del manico dove abbiamo il modello, la materia prima e con i modelli creiamo poi il coltello finito. Da qui poi si va a sagomare la lama ritagliando praticamente la parte in più. Praticamente questa è una lama finita, sbozzata, pronta da attemperare e da portare a scartatura finale. Il passaggio della molla sarà successivo praticamente alla lama con la solita operazione, il modello della molla appoggiata sopra e la segnatura. Questa è la molla già scontornata e pronta diciamo al montaggio. Ora si va a fare l'operazione della sagomatura di manico dove poi inseriremo la lama e la molla. La sbozzatura per attirare poi la rocondità del manico. Lavorato in manico e sbozzato tutto la scartatrice si arriva a dare la forma finale del coltello. Naturalmente dopo aver fatto i fori che vanno creati diciamo in questa maniera sempre segnando la lama cercando di incentrarla al manico e appoggiandoci la molla sopra. Tutti e due vanno segnati e forati. Una volta forati si procede al montaggio del coltello dove la molla andrà a appoggiare praticamente nel tallone in fondo del manico creando proprio una caricatura perché praticamente la molla appoggia in fondo. Inserendo la lama andrà a tirare sulla molla e si crea proprio una flessione. Praticamente qui nasce il coltello. Normalmente questo è un gobbo abruzzese, un coltello tradizionale dell'Abruzzo. Qui abbiamo la prima sbozzatura con il nastro grosso e praticamente è un primo passaggio e poi andremo a fare una trafinitura finale con un nastro fine che poi ci permetterà di andare alle spazzole e lucidare il corno. Questa è una spazzola dura che serve a levare la prima sgrossatura del manico e poi si passa a quella più morbida che viene fatta con una pasta più dura. Praticamente il corno è finito e lucidato e di qua si vede il corno grezzo. Naturalmente la natura del corno fa sì che ogni pezzo sia unico.